Maurizio Martella, direttore tecnico commerciale Automa, azienda da sempre con NICE. Praticamente voi siete stati i primi distributori specializzati di NICE. Oggi a questo secondo meeting, riuscite ancora ad emozionarvi? Sì, diciamo di sì, perché comunque con la filosofia di NICE da sempre, da quando hanno iniziato, abbiamo seguito la loro crescita e automaticamente siamo riusciti a crescere seguendo proprio la loro attività. L'attività di coinvolgere le persone, di coinvolgere le aziende, di coinvolgere i loro collaboratori ha fatto sì che anche noi siamo riusciti a fare un nostro sviluppo, una nostra crescere, a nostra volta dando quel servizio che ci ha un po' contraddistinti da quello che erano le normali attività artigianali che fino in quel momento diciamo c'erano. E quindi siamo riusciti a pian pianino a crescere perché sono 25 anni che noi seguiamo NICE e ne siamo comunque soddisfatti e contenti perché hanno creato anche il nostro successo. Benissimo. Tra l'altro oggi sono stati presentati tantissimi nuovi prodotti, soprattutto nuove soluzioni e sistemi. Certo. Come sempre NICE non ha mai smesso di investire in sviluppo e tecnologie e nel dare quel plus valore a tutte le cose che ha realizzato. Il loro presidente e amico, Lauro Buoro, è veramente stato una persona particolare, ha visto un progetto, l'ha inseguito ed è riuscito a raggiungerlo coinvolgendo comunque anche tutti quelli che sono stati con lui. E questo ha fatto probabilmente la differenza con le altre case che sì hanno creato, hanno fatto, ma non hanno coinvolto, ad esempio noi, in qualità di concessionari, nella crescita, nel vedere degli obiettivi diversi da quelli che erano prettamente il senso commerciale della cosa, ma il cercare di dare un servizio particolare per coinvolgere anche a nostra volta i nostri clienti che sono cresciuti anch'essi con noi. Quindi qual è il messaggio che portate ai vostri installatori? Ma è sempre quello di cercare di dare un plus valore alla loro attività, quello di non andare a presentare soltanto un preventivo fine se stesso, con un prezzo, ma coinvolgere anche l'utente finale nel capire che comunque stiamo dando un prodotto con un servizio e un valore aggiunto. Quindi di seguire il cliente passo passo e spiegarle che quale sarà poi il progetto finale, la soluzione. Trovare una soluzione. Questo è per me il valore aggiunto in tutto.